l'epoca 82 non è la sala delle coordinate b2 b3 c2 c3 non so per la la sera seguita dove sta non dovrebbe essere e quando quelle coordinate dovrebbe essere e tu hai messo il ping non c'è niente vedi contro la vedi sa qualcosa dovrebbe esserci perché c'è anche il il se infatti che provo preciso e neanche l'ho visto neanche l'ho visto in che successe come mi hai fatto capire devi ringraziare che non mi ha preso tanto peccato vai prendi questo vai da fuard che fai e scendi giù perché scendi giù alla palla ecco la palla stanno tizi rena aiutaci prendo il pompa grande pod no 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 mi hai fatto cadere da me no a terra ok ok qui è qui è qui è qui l'altro mi faccio i scudini e vengo sono qua gli altri non è uno una terra no vabbè grazie lo stesso vai no no quello lato puoi prendere no stavo dicendo no stavo dicendo no per il fatto che eh per la kill per la kill quello tu puoi prendere prendi ok vai 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 andiamo dammi la palla vai vai motore no mi stavi facendo cadere giù si è notato eh non so no no tu non lo sai forse ho visto infatti veramente mi sono detto oh no adesso la ingerenza che si arrabbia no 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 tu proprio ma perché sento il rumore come se stanno accendo le palle da colpo oh tizi tizi qua vicino eh Renà dove eccola qua sotto Renà lottato il mentero a uno gli ho tolto il tusso a tempo di vita ok a terra no raga grande foto no vado in safe vado in safe non perdere vita vabbè normale fuori poi sei qualche band o falò io io ho le band band e cildini però vieni no no eh aspetta ho 5 band te ne do due per ora vai fatti vabbè intanto due me ne ho no no venite con me venite con me dove? no 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 venite andiamo in safe andiamo in safe andiamo in safe fu advenito venite il geyser andiamo in safe eh sto venendo vediamo anche qualche ecco in più calmati atterriamo qui o là all'altro che ne so si si andiamo qua all'altro veloci veloci falò 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 fuad vieni da noi ah ma si sta facendo ah no bugia si sta facendo il falo di qua ah ecco e lo stavano pure sparando 150 è caduto giù uno ha fatto tutto ok fanno gli altri il veneno non finisce mai mi cura un attimo a me mi servono qualche volta sono andate li ha lasciati mi hanno sparato con con l'arco non so da tutto eh colpi piccoli non mi facciano proprio tene angelo se le vuoi capito da dove vieni vieni andiamo contro stanno foietando ce l'abbiamo anche qui però da me da me fatti fatti stanno a jump stanno a jump potremmo prendere a jump e andare e anche là in fondo in safe dobbiamo andare sopra sono andate i tezio andiamo la veloce ce la faccio prendere no 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 l'ho mancata la zippian porco ronagio la fai anche se non hai preso vabbè ho perso 20 di danno anche se ho fatto tipo scelta dobbiamo andare ma ci dobbiamo avvicinare verso la safe non siamo in safe ognuno qua mi hanno provato mi hanno provato a scacchinare si avete una jump? no un fallo lo piazzo 151 è forte se ne sto andando giù vabbè scendiamo da qua 24 no è uscito con la ferra no qua sotto sta una bolla se la vuoi prendilo ah pure lui sta con la pallina forse si ha buttato una bomba a te è uscito lo vuoi tu? il budget leggendario non ce l'ho è più non è che cambiamo in quattro tre contro uno siamo ognuno ok Renà vieni qua scusa per forza lo devo fare scusa povero povero dove? non lo so è qui si si non lo so Grazie a tutti